Cari amici del canale YouTube Robimaster, anche quest'oggi cerchiamo di scavare in profondità nelle notizie. Molti in questi giorni hanno parlato di contrapposizione di Draghi, che ha minacciato di non comprare più il nostro debito, con la JP Morgan, che invece consigliava all'opposto e prometteva di acquistare i nostri titoli di Stato. Ma dobbiamo credere che questi due organismi si contrappongano uno con l'altro? O piuttosto che siano d'accordo nel recitare una parte? Facciamo questa premessa. Lo scorso gennaio l'ombudsman europeo aveva inoltrato alla BCE una richiesta formale di sospensione del presidente Draghi dal gruppo dei 30, di cui ha fatto parte anche quando lavorava per Goldman Sachs. Al fine questo di tutelare la reputazione pubblica e prevenirne possibili conflitti di interesse. A G30, fondato da Rockefeller, si riuniscono insieme i presidenti delle banche centrali, dei principali centri finanziari internazionali, accademici esperti di questioni finanziarie e rappresentanti dei grandi gruppi bancari, per confrontarsi a porte chiuse e senza documentazione pubblica relativa a tali incontri sui grandi temi dell'economia e della finanza globale. A rendere particolarmente sconveniente la questione è il fatto che in questo club esclusivo il presidente Draghi scambi opinioni anche con esponenti delle banche direttamente vigilate dalla BCE in qualità di autorità di supervisione europea dal 2014 con l'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza dell'unione bancaria. Una possibile pericolosa connivenza fra vigilanti e vigilati, denunciata dal Corporate Europe Observatory. In diverse occasioni il gruppo dei 30 si è espresso a favore di proposte che sono molto simili alle posizioni avanzate dalle grandi banche private. Questo comprende la regolazione di complicati strumenti finanziari, i derivati, e le norme sui requisiti patrimoniali delle banche e qui si capiscono tante cose. Nonostante ciò, lo scorso 18 aprile, la Banca Centrale Europea ha respinto le contestazioni del mediatore europeo che vediamo in foto. Premesso questo, vengo al punto. Il massimo esponente dell'organizzazione dei Rockefeller è proprio, udite udite, Jakob Frenkel, il presidente di JP Morgan. Possiamo ora ritenere che Draghi continui a far parte di questa organizzazione pur dissociandosi dalla linea del suo presidente? Certamente no. E che indizi abbiamo che quanto si decide nel gruppo dei 30 poi venga messo in atto anche dalla BCE? Per brevità faccio un solo esempio. Kenneth Rogoff, un economista del MIT che ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale ed è stato consigliere d'amministrazione della Federal Reserve americana, è anche egli membro del gruppo dei 30. Recentemente si è dichiarato a favore di un mondo senza denaro contante, illustrandone le motivazioni in La fine dei soldi, libro edito da Il saggiatore. A leggere alcuni passaggi c'è un lato nobile nella proposta. L'eliminazione della carta moneta, secondo Rogoff, potrebbe contribuire sensibilmente a scoraggiare l'evasione fiscale e il crimine. L'autore spiega, l'aspetto incredibile è che questo enorme cumulo di denaro è costituito per la maggior parte da banconote di grosso taglio, quelle che le persone comuni di solito non tengono in tasca o nel portafoglio come biglietti da 100 dollari, da 500 euro o da 1000 franchi svizzeri. Quasi l'80% del circolante statunitense è formato da banconote da 100 dollari. Da qui la convinzione, certamente non campata in aria, che questo denaro sia in mano alla criminalità o comunque a imprenditori che l'usano per fini illeciti sbariati. Ma lo scopo di Rogoff è però un altro, come spiega lui stesso. La moneta cartacea è diventata un grave ostacolo al corretto funzionamento del sistema finanziario globale, secondo l'economista. La moneta cartacea può essere vista come un'obbligazione a tasso zero o, per la precisione, come un'obbligazione al portatore anonima e in fruttifera. Finché esiste la possibilità di detenere denaro contante, nessuno sarà disposto ad accettare un interesse nettamente più basso su qualsiasi tipo di obbligazione, spiega Rogoff. L'autore esalta quindi una politica di tassi negativi senza limiti. Ecco svelato l'arcano disegno, togliere il denaro contante, obbligarti conseguentemente a possedere dei banalissimi crediti registrati su un conto corrente bancario. A questo punto imporre dei tassi nettamente negativi, ovvero espropriarti dei tuoi soldi del frutto del tuo lavoro. Fortunatamente in Italia abbiamo una ben fatta Costituzione che lo impedisce. L'articolo 47 infatti dice testualmente la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. È fondamentale, suggerisce Rogoff per conto del gruppo dei trenta che qualsiasi percorso verso l'eliminazione della moneta cartacea inizi con i biglietti di grosso taglio. E di fatti, poco dopo, cosa ha fatto la Banca Centrale Europea di Draghi? Eseguendo forse pedissequamente quanto disposto dall'Associazione dei Rockefeller, rappresentata proprio dal presidente di JP Morgan. Ebbene, la BCE ha deciso di sospendere la produzione della banconota da 500 euro, la cui emissione verrà interrotta intorno a fine 2018. Lo ha deciso la Banca Centrale Europea, si leggeva su un quotidiano, ma forse tutti ricorderemo le pressioni fattici per ridurre l'uso del contante, utilizzando strumenti come Banco, Mate, Carte di Credito, che si appoggiano su virtuali conti corrente, dove ovviamente per virtuale intendo un iperbole. Ora, tornando al nostro dottor Frenkel, presidente del gruppo dei trenta e di JP Morgan, è membro di numerose organizzazioni e società, tra l'altro della Commissione trilaterale, membro dei consigli di amministrazione dell'Aspen Institute Italia e del Consiglio per gli Stati Uniti e l'Italia. Pensate possa tollerare una linea operativa all'interno del gruppo dei trenta che si opponga alla sua? Come vogliono farci credere alcuni? I Rockefeller, o meglio chi per loro, non lo permetterebbero. No, mai una guerra intestina. Ora rimane da vedere se dice il vero Draghi, assedendo di smettere gli acquisti dei nostri titoli di debito, o dice il vero il suo leader al gruppo dei trenta, il presidente di JP Morgan. Ci sarebbe ancora molto da dire al riguardo e credo che sapere altre cose ancora più nascoste aiuterebbe l'Italia ad adottare eventuali contromisure. Credo che per ora ci sia però già molta carne al fuoco e probabilmente i più indagatori fra voi, amici del canale YouTube Robimaster, vorranno rivedersi più volte il video. Vi prego di diffondere questo video il più possibile per aiutare molti ad aggiungere altri tasselli al puzzle che pian piano si sta delineando e che assieme stiamo scoprendo. Iscrivetevi al canale per ulteriori approfondimenti e sosteneteci anche con delle donazioni, in quanto l'unica risorsa che ho è questa. Finora ho messo del mio, ma non posso andare avanti molto così. Ne ho già parlato con le mie collaboratrici e ci siamo dati una scadenza, sia temporale che in termini di scritti e fondi raccolti, perché di un minimo ne abbiamo bisogno. Per chi non ci avesse seguito fin dall'inizio, quello che stiamo facendo, oltre che diffondere le ricette per uscire dalla crisi di molti validi economisti e riferire quanto sta avvenendo sul lato economico, stiamo anche accendendo un faro puntato sul ladro di notte. Così facendo, se il ladro ha buon senso, abbandona la preda perché si vede scoperto e non tenta il furto in casa nostra, d'Italia. Ognuno di noi ha la possibilità di mantenere acceso questo faro puntando sul ladro di notte, oppure spegnerlo e lasciarci derubare. Ho fiducia in voi. Un abbraccio, vostro Roby Master.